Fa il suo ingresso in sala la Presidente della Corte Costituzionale. Benvenuti a tutti, prima dei saluti, dei ringraziamenti e della presentazione della graditissima ospite, secondo la tradizione trentina de Gasperiana dell'Aleccio, ascolteremo il coro Balsella che ci ha accompagnato in tutti questi anni. Grazie. 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 Dai rivi d'argento Una capanna Cosparsa di fior Era la piccola Dolce dimora Di solechina La figlia del suo La figlia del suo La figlia del suo Applausi Diamo inizio a questa lezione De Gasperiana I saluti A Paola De Gasperi E ai figli Lì a De Gasperi non ce l'ha fatta Ma ci sono figli e nipoti Maria Romana De Gasperi Non è riuscita a salire in sella Quest'anno E quindi La salutiamo Monsignor Arcivesco Grazie Giudice De Pretis Grazie Presidente Fugatti Vicepresidente Tonina Rappresentanti del governo Autorità civili e militari Parlamentari Parlamentari in carica Non li cito Parlamentari Che sono stati Senatori Consiglieri Sindaci 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 di Tutte le grandi città Del Trentino Sono qui Assessori e sindaci Che vengono da fuori Del Trentino Presidente Consorzio dei Comuni Siamo 200 Scarsi Avremmo potuto essere 500 Sulla base delle richieste Le regole Del Covid Obbligano E noi cerchiamo di rispettarle È stata un'impresa Siamo molto lieti Di essere riusciti Anche quest'anno A tenere questo evento Che per noi È molto importante Che è caro E che Col passare del tempo Assume Dei significati Accompagna La storia civile E politica Dell'Italia Dell'Europa E cerca Di inserirsi Con la grande discrezione E lo stile De Gasperiano In processi Che sono molto tumultuosi Non ho molto da dire La scelta del tema È stata una scelta Suggerita Dalla Presidente Cartabia Non ha bisogno Di spiegazioni E poi La sua lezione Magistrale Sarà Il contenuto Di fondo Di questo evento Non potrò Accogliervi Insieme a tutti i consiglieri Della Fondazione Ai giovani Che ci danno una mano Nel Giardino De Gasperi Di Europa Per il caratteristico Brindisi Sempre per le ragioni note E quindi ce ne andremo Con l'appuntamento Per il prossimo anno Di rivedervi tutti E di poter festeggiare A lungo Come facevamo sempre Alla fine Della lezione Prima di dare la parola E di invitare La Presidente È doveroso Dare la parola Il sindaco Di piebetesino Carla Giuseffi Che invito A prendere la parola E siccome Non voglio Allungarmi Vorrei Ringraziarla Prima che lei parli Perché sta finendo Il suo mandato Di sindaco Per noi è stato Un incontro importante Un sostegno importante Lei Il giovane direttore Odorizzi Della Fondazione Hanno stabilito Un'intesa Quasi perfetta E so che adesso Ha impegni Per la presidenza Della provincia E quindi auguro a lei Vitalietta E soprattutto Di rimanere sempre In contatto Ringraziandola di cuore A nome dell'amministrazione comunale di piebetesino e mio personale, porgo a tutti voi un cordiale benvenuto. Siamo pronti per dare avvio all'annuale appuntamento dell'Alexio de Gasperiano. Un evento che ci dà modo di far conoscere il paese natale di Alcide Gasperi e il suo pensiero. Ma quest'anno vuole essere anche un momento di riflessione in un periodo tormentato e difficile caratterizzato dalla pandemia Covid-19 che ha segnato in modo indelebile le nostre vite. Increduli, spaventati, confusi, rassegnati, stiamo vivendo un anno davvero particolare. Più volte ci siamo sentiti ripetere che con questo nemico invisibile dovremo imparare a convivere e necessariamente anche molte delle nostre abitudini sono dovute cambiare. In tante occasioni il digitale ha preso il posto degli incontri, degli eventi, delle occasioni di aggregazione. Oggi non è così e per questo ringrazio la Fondazione Trentino Alcide de Gasperi, il suo presidente, professor Giuseppe Tognon, il suo direttore, dottor Marco Odorizzi, ed il suo piccolo ma determinato staff. per la risolutezza e il coraggio dimostrati nel voler organizzare l'appuntamento di oggi in presenza nel rispetto di tutte le misure di sicurezza. È per me un segnale importante, un messaggio di speranza per il futuro e di ringraziamento per la coesione e la solidarietà dimostrate dalla nostra comunità durante il periodo di emergenza. In questa giornata così importante, nella quale il nostro Paese vuole presentarsi al meglio per accogliere tutti gli illustri ospiti presenti oggi e per far loro conoscere le bellezze del proprio territorio e la propria storia, della quale è orgoglioso. Un pensiero di sincera gratitudine va pertanto a tutti coloro che con grande generosità e spirito di servizio si sono adoperati ai vari livelli per il bene comune. Nella mia piccola esperienza personale, in particolare in questi ultimi cinque anni, ho incontrato diverse persone che si sono rese disponibili a dare una mano, a fornire un consiglio, un suggerimento, a regalare un sorriso o una parola di incoraggiamento. A tutti loro vorrei esprimere oggi un vivo ringraziamento per la vicinanza e l'affetto che mi hanno sempre dimostrato. Chi viene chiamato ad amministrare una comunità assume su di sé una grande responsabilità ed è giusto che ne porti anche il peso, ma non ce la farebbe senza il sostegno spesso invisibile di molti. Solo con questo spirito di collaborazione e di solidarietà si raggiungono grandi traguardi, individuali e collettivi. E qui è facile ricordare Alcide de Gasperi che all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, di fronte alla sfida di una ricostruzione che allora doveva sembrare quasi un miraggio, affermava con decisione. Ce la faremo? Rispondo. Certissimamente. Purché lo vogliamo. Con fermezza, con tenacia, con solidarietà. È inutile che una categoria voglia sopraffare l'altra per arrivare al traguardo, o tutti o nessuno. Ci vuole disciplina, solidarietà ed onestà. A distanza di anni, di fronte a sfide certamente diverse, ma pur sempre molto difficili, queste parole sono un augurio e insieme un impegno per ognuno di noi. E non è forse un caso se la stessa Presidente Cartabia, che oggi con la sua presenza onora la memoria del grande statista, nella sua ultima relazione sull'attività della Corte Costituzionale, si è posta sulla stessa linea di pensiero, ricordandoci le parole del Presidente Sergio Mattarella, e ribadendo che questo momento che attraversiamo richiede coinvolgimento, condivisione, concordia, unità di intenti. I valori fondanti da cui ripartire sono sicuramente quelli che contraddistinsero la figura di Alcide De Gasperi, l'addirittura morale, la centralità della persona umana, l'impegno costante nel ricercare il bene comune. Impariamo la lezione dei fiori e delle piante del Giardino d'Europa De Gasperi, situato nei prati dell'arboreto del Tesino. Tante specie diverse che insieme danno vita a un'armonia di colori e forme, la cui bellezza è superiore alla somma delle singole bellezze. Impariamo a riscoprire la bellezza e la soddisfazione dell'agire insieme, rinunciando a un po' del nostro tempo per metterlo a disposizione degli altri e dell'intera comunità. L'auspicio è che in questo modo, pur nelle incertezze e nelle difficoltà del presente, riusciremo a guardare al futuro con speranza e rinnovata fiducia. Grazie. Bene, saluto tutti i telespettatori, siamo in diretta televisiva, siamo in streaming, e quindi è doveroso anche salutare tutti coloro che adesso seguiranno la lezione magistrale della Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia. Grazie, Presidente. Ti chiameranno riparatore di brecce, restauratore di case in rovina per abitarvi, questo splendido passo di Isaia, a me molto caro, ci introduce al tema scelto con grande lungimiranza, non da me, mi pare, ma dagli organizzatori, per la lezione de Gasperiana di quest'anno, ricostruzione e costituzione. La parola ricostruzione risuona da mesi nella riflessione pubblica ed è risuonata molto nel corso delle ultime settimane, in occasione specialmente della cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte di Genova, ricostruito, appunto, dopo la tragedia del crollo di due anni fa. In quell'occasione, l'architetto Renzo Piano, che ha donato il progetto del nuovo ponte, nel suo intervento di saluto ha espresso con parole bellissime pensieri profondi da cui desidero prendere le mosse per la nostra riflessione odierna. Anzitutto, ho osservato, la ricostruzione è sempre figlia di una tragedia, di una frattura che non si cancella e non si dimentica, una ferita che non si rimargina, ha sottolineato nella stessa occasione il Presidente della Repubblica, e diventa l'essenza stessa di quello che saremo. La ricostruzione incorpora, dunque, un passato che non si può ripristinare così com'era, ma richiede un rinnovamento. Per ricostruire occorrono un'idea e un cantiere, ha proseguito l'illustre architetto e senatore, un'idea per dare forma a ciò che non l'ha più, un cantiere per realizzare quell'idea attraverso il lavoro, l'opera instancabile e tenace di una comunità di persone. Similmente, la ricostruzione dell'Italia dopo la catastrofe alla fine della Seconda Guerra Mondiale ha richiesto un ideale, che ha la stessa radice etimologica di idea, e un lavoro nato dal coinvolgimento di un popolo. In quella ricostruzione, Alcide De Gasperi svolse un ruolo preminente come uomo di pensiero e di azione. Anche allora c'erano tragedie, fratture, macerie, ferite non rimarginabili. Anche allora fu necessaria un'idea per ridare forma nuova alla convivenza civile di un popolo disorientato. Anche allora fu necessario un grande cantiere per ricostruire su solide fondamenta la casa comune. Oggi, come allora, come sempre, superate le fasi più acute dell'emergenza innescate dalla pandemia, siamo alle prese con una ricostruzione, avviata quando si è incominciato a pensare al dopo, a un dopo che difficilmente potrà assumere la forma di un semplice ritorno al prima. In questo frangente è più che mai fecondo riandare alle fonte della storia. Lo ha ricordato questa mattina anche Mario Draghi, proprio richiamando De Gasperi. Riandare alla storia, con un'avvertenza. La parola ricostruzione sta tornando a dominare la scena, ma il contesto storico del nostro oggi è unico, irripetibile e non sovrapponibile in alcun modo ad epoche passate. Perciò, il valore dell'insegnamento che si può trarre dalla storia non è tanto legato alle specifiche soluzioni elaborate con più o meno successo in altri frangenti, quanto al metodo, al metodo tenacemente applicato e alla tensione risolutiva che muoveva l'azione dei protagonisti. In questa prospettiva, ricco di spunti e di riflessione, anche per il nostro oggi è il percorso di un uomo, qual è Alcide De Gasperi, che ha fatto della ricostruzione non solo una delle sue principali preoccupazioni, ma soprattutto il metodo della sua azione politica. Un uomo che non a caso ha operato da protagonista sulla scena pubblica proprio in quel decennio della storia d'Italia che viene usualmente denominato periodo della ricostruzione, dopo le guerre e il fascismo. E significativo è che il documento più organico in cui si possono rintracciare le linee di pensiero di Alcide De Gasperi rechi il titolo Idee ricostruttive della democrazia cristiana del 1943. Egli contribuì alla ricostruzione, lo abbiamo accennato, con pensiero e azione, idee e cantieri, direbbe Renzo Piano. Il contributo di De Gasperi alla ricostruzione non può essere compreso disgiungendo questi due aspetti che in lui furono sempre uniti. Pensiero, che egli ebbe modo di elaborare in particolare durante il periodo dell'esilio in Vaticano, anche con gli esponenti del Partito Popolare e con i giovani che avevano preso a riunirsi sin dal 1940 a casa di Sergio Paronetto. Qui si era incominciato a ragionare seriamente di ricostruzione. Tante le personalità che partecipavano a questi incontri che sarebbero poi confluiti nella redazione del Codice di Camaldoli del 1943. Lo stesso De Gasperi, Gonella, Spataro, Mario Scelba, Saraceno, Giulio Andreotti. In quei raduni, Paronetto, morto prestissimo nel marzo del 1945, fu, secondo la testimonianza di Ezio Vanoni, tra le persone più vicine a De Gasperi. E molte delle sue riflessioni confluiranno a tratti letteralmente nel testamento politico di De Gasperi. Desidero leggere qualche riga che De Gasperi scrisse a Paronetto, che mostra la sua sete di sapere, di elaborazione, di conoscenza, di pensiero. Le sue parole. Uscito dalla biblioteca, nel breve spazio di tempo che mi era consentito di farlo, sono venuto da voi e da altri in tutta umiltà per imparare ed aggiornarmi, con una sete del concreto e dell'elemento tecnico che non si è lasciata vincere nemmeno dalla relatività delle conclusioni. Partecipo di lontano, con l'augurio ai vostri lavori, e ne spero molto per i cattolici e per i politici. Se ci sarà da imparare, e come non sarà, mi avrete scolaro e entusiasta con lo sguardo all'avvenire. Dunque, il primo fronte del suo impegno, che non fu mai disconnesso dal secondo, è quello della elaborazione delle idee, della riflessione personale e condivisa, dell'apprendimento costante anche dai più giovani. Il secondo aspetto è quello dell'azione, che si sviluppa sul terreno della politica, e lo vede protagonista con responsabilità di governo per un decennio, proprio nel volger di tempo in cui la Repubblica italiana veniva alla luce, muoveva i primi decisivi passi, e contemporaneamente si gettavano i semi delle prime forme dell'integrazione europea. Si firmava il Trattato di Pace, si tessevano le prime relazioni dell'Alleanza Atlantica. Allo stesso tempo, era drammaticamente urgente procedere alla ricostruzione materiale di ciò che era andato distrutto e provvedere ai bisogni di base della nazione che dopo anni di guerra era allo stremo, moralmente ed economicamente. La sua azione politica ricostruttiva, dunque, si muoveva contestualmente su una pluralità di piani e rispondeva a una visione integrale dei bisogni che urgevano. Tutt'altro che secondaria per lui fu anche la componente morale e culturale. Il suo imponente cantiere ricostruttivo portò a risultati tangibili, da più parti qualificati come prodigiosi nella storia d'Italia ed Europa, perché egli non trascurò mai il fattore umano nella sua integralità, convinto che più che i programmi contano gli uomini che sono chiamati ad attuarli. Parole sue. Il messaggio che proprio ieri il Presidente della Repubblica ha inviato agli organizzatori del meeting di Rimini testimonia l'intramontabile attualità di un metodo che fu anche di De Gasperi. Nei passaggi storici, così il Presidente Mattarella, nei passaggi storici più importanti pesano ovviamente le condizioni materiali, ma il rilancio è possibile se accanto al legittimo gioco degli interessi si manifesta capacità progettuale, tendenza allo sviluppo integrale della persona, impegno per la crescita di umanità che sconfiggano spinte alla chiusura, al risentimento, all'avversione, che condurrebbero invece al fallimento. Veniamo più da vicino al tema della nostra riflessione, ricostruzione e costituzione. È sul terreno costituzionale, a me più familiare, che intendo rimanere più saldamente ancorata, ma è bene subito sottolineare che per comprendere il contributo così ricco e articolato come quello che offrì De Gasperi alla ricostruzione costituzionale, occorre affrancarsi da una nozione meramente testualistica di costituzione per abbracciarne una più ampia e ricca, che include la prima, ma non si esaurisce in essa. Le costituzioni nascono dalla storia e vivono nella storia. Il momento della scrittura di una costituzione è un momento epico nella vita di un popolo, eppure, solo con la scrittura, le costituzioni non possono garantire se stesse. Occorrono soggetti sociali, politici e istituzionali che siano in grado di conferire alle scelte costituzionali solide fondamenta e radici robuste, capaci di reggere all'urto delle intemperie. Per questo rimane attuale l'intuizione fondamentale di Costantino Mortati, un costituente, che ci ha consegnato una nozione complessa di costituzione, risultante tanto dal testo scritto, la costituzione formale, quanto dai rapporti tra le forze sociali e politiche, la costituzione materiale. Ed è proprio qui, su questo secondo piano, che si può apprezzare maggiormente il lascito di De Gasperi. Infatti, chi si basasse solo sul processo di scrittura della nuova Carta Costituzionale, cioè si affidasse alla lettura dei lavori dell'Assemblea Costituente, ne trarrebbe l'impressione di un'assenza o di una presenza molto parsimoniosa, quasi indisparte. Fatto salvo un intervento importante ed energico al momento dell'approvazione del futuro articolo 7 della Costituzione sui rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica, si annoverano altri due brevi interventi di De Gasperi, uno all'inizio e uno alla fine dei lavori, e niente più. Se paragonato al contributo degli altri cattolici eletti in Assemblea Costituente, Dossetti, Lapira, Moro, solo per citare alcuni nomi eminenti, l'apporto diretto di De Gasperi alla scrittura della Carta Costituzionale appare assai contenuto. Eppure, non errano quegli osservatori italiani e direi soprattutto stranieri che attribuiscono un ruolo di spicco allo statista trentino in tutta la fase costituente. Lasciatemi citare un'opera recente. Un autorevolissimo osservatore esterno al dibattito politico italiano non esita a definire De Gasperi come vero e proprio leader carismatico della svolta costituzionale italiana dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di Bruce Ackerman, un eminente costituzionalista dell'Università di Yale, che nella sua più recente opera indaga sulle origini e sulle legittimazioni delle Costituzioni contemporanee e riserva un ampio spazio alla nascita della Costituzione italiana annoverandola tra le esperienze di successo accanto a Francia, India, Iran, Israele e Sudafrica. Egli descrive un processo fondativo suddiviso in varie fasi dove dopo la rottura netta con un passato regime interviene una leadership carismatica capace di trasformare l'impeto di rottura col regime pregresso in una energia costruttiva. E da lì nasce la Costituzione. È proprio in questa seconda fase dall'opposizione alla Costruzione che Ackerman riserva un posto di primordine ad Alcide De Gasperi nella nascita della Costituzione italiana paragonandolo a Yavar-Hahal Nehru nella conquista dell'indipendenza in India e ancor più a Nelson Mandela nella rinascita del Sudafrica dopo la fine dell'Apartheid. Tutte personalità, nota Ackerman, dotate non di un carisma sensazionale, spettacolare, ma leader simbolici i cui decisivi atti di sacrificio sono stati esempi paradigmatici nella più ampia battaglia per la realizzazione di un nuovo inizio nella vita politica della nazione. Di De Gasperi, Ackerman valorizza anzitutto l'opposizione al fascismo, il carcere, la solitudine degli anni seguenti, trascorsi nell'oscurità della biblioteca vaticana dove lavorava durante il periodo fascista come modesto impiegato esecutivo. Un percorso biografico segnato da lunghi momenti di abbandono, incomprensione, solitudine e sacrificio, componenti non secondarie, nota l'americano, della sua e della forza della sua leadership. Ma decisiva, agli occhi dello studioso americano, è anche la linea politica di De Gasperi, sempre animata dall'esigenza di pacificazione, composizione e stabilizzazione di una comunità nazionale frantumata al suo interno ed esposta a forze divergenti all'esterno. Il filo conduttore della sua opera, come è stato notato, era costituito da una proposta di collaborazione nella diversità, l'ha sottolineato anche la sindaco, che non ha mai evitato lo sforzo di addivenire gradualmente e con il consenso delle parti a soluzioni che tenessero conto delle diverse posizioni e ciò si verificava sia nei confronti delle altre forze politiche, sia all'interno della democrazia cristiana attraversata da una vivace dialettica e da forti dissensi. Egli ha saputo piegare efficacemente verso il centro le dinamiche interne ed esterne al partito, sempre bilanciando conservatorismo e spinte riformiste. La sua fu un'opera potremmo dire di coibentazione, di consolidamento delle istituzioni repubblicane della nascente democrazia attraverso un'azione di politica interna ed estera che si svolse parallelamente ai lavori dell'Assemblea Costituente per assicurarne la permanenza al di là dei mutare dei governi. De Gasperi aveva visto in prima persona cadere sotto i colpi del fascismo non solo il costituzionalismo italiano ma anche la Costituzione di Weimar del 1919 avanzatissima nei suoi principi ma fragilissima nella sua struttura in cui non si era riusciti a trasferire al nuovo sistema politico la lealtà degli apparati del vecchio un fallimento quello di Weimar che spianò la strada al nazionalsocialismo e all'ascesa di Hitler in Germania a causa della frammentazione sociale della crisi economica e della distanza siderale che si era venuta a creare tra i principi proclamati e la realtà politica e sociale esistente. Egli aveva attraversato le due guerre mondiali sperimentato l'incapacità di mantenere la pace sul continente europeo sapeva bene per averlo visto che le costituzioni per vivere hanno bisogno di un fertile humus politico sociale e morale in cui affondare le radici pena la loro fragilità come non mancò di sottolineare nel suo breve intervento dopo l'approvazione finale della carta costituzionale il 22 dicembre 1947 risentiamolo poche righe ora fatta la costituzione il governo ha l'obbligo di attuarla e di farla applicare ne prendiamo solenne impegno noi tutti però sappiamo egregi colleghi che le leggi non sono applicabili se accanto alla forza strumentale che è in mano al governo non vi è la coscienza morale praticata nel costume i valori costituzionali chiedono di essere vissuti dal popolo per esprimere tutto il loro vigore De Gasperi lo sapeva De Gasperi veniva da lontano e guardava lontano e per questo vedeva nella stabilizzazione nazionale europea e internazionale il necessario complemento all'operazione costituente che egli perseguiva con la sua azione di governo distinta ma parallela ai lavori della costituente ora collocato in questo contesto di più ampio respiro il numero limitato dei suoi interventi diretti ai lavori dell'assemblea costituente è quasi irrilevante comunque è un indicatore scarsamente significativo per valutare la reale incidenza che il pensiero e l'azione di De Gasperi spiegarono sulla configurazione del nuovo ordine costituzionale al contrario la fase costituente fu segnata profondamente dalla sua azione in particolare fu resa possibile da tre decisive scelte di metodo che debbono indiscutibilmente essere a lui ascritte la prima la scelta per la costituente in luogo del metodo insurrezionale la seconda la decisione a favore del referendum istituzionale per la scelta tra monarchia e repubblica la terza la delimitazione dei poteri dell'assemblea costituente escludendo dal suo campo di azione l'intervento in materia di legislazione ordinaria approfondiamo brevemente questi tre punti sul primo fronte occorre osservare che sin dall'epoca delle discussioni in sede di comitati di liberazione nazionale De Gasperi si fece fautore dell'idea di un'assemblea costituente in opposizione all'ipotesi insurrezionale avanzata dei socialisti famose sono le dichiarazioni che egli pronunciò proprio nel comitato di liberazione nazionale non temo la parola rivoluzione ma ne ho fastidio dopo vent'anni che il fascismo richiamandosi ai diritti della rivoluzione ha commesso tante soperchierie e violato i diritti dei cittadini ad ogni modo la vera rivoluzione è la costituente la vera rivoluzione è la costituente De Gasperi è lapidario le sue parole lasciano intendere che sullo sfondo si svolgeva una discussione condizionata dall'eterna dicotomia restaurazione rivoluzione come se l'alternativa che si poneva alla fine del fascismo fosse un out-out o un ritorno al passato o un sorvertimento radicale una palingenesi sociale da imporsi con il metodo insurrezionale De Gasperi non si fa intrappolare nell'alternativa tra nostalgie e utopie dal punto di vista metodologico egli prediligeva appunto la strada della ricostruzione una terza via alternativa tanto alla mera restaurazione quanto alla radicalità della rivoluzione e tale via passava appunto attraverso la costituente democraticamente eletta perché il suo obiettivo era di assicurare alla nascente democrazia una prospettiva stabile proiettata a lungo nel futuro ben oltre il momento epico della fase costituente cosa che la rivoluzione temeva non fosse in grado di assicurare altrettanto netta veniamo al secondo punto la scelta del referendum e la sua posizione quanto al metodo per risolvere la questione istituzionale nella scelta cruciale tra monarchia e repubblica questa alternativa era fortemente lacerante sul piano politico lungo vari crinali che dividevano il paese per questo la sua proposta fu sempre chiara nel voler sottrarre questo compito gravoso all'assemblea costituente il nodo tra monarchia e repubblica doveva essere sciolto con un voto diretto da parte del popolo di referendum istituzionale egli parlò sin dal giugno 1944 nella fase della discussione della prima costituzione provvisoria il decreto luogotenenziale numero 151 del 44 in quella fase non riuscì ad affermare la sua linea per le contrapposizioni che impedirono di giungere una soluzione condivisa soprattutto perché molti temevano che il popolo italiano non fosse maturo per un tale voto la sua preferenza era a favore di una consultazione popolare da svolgersi nel corso dei lavori dell'assemblea costituente dopo che fossero già stati definiti i principi fondamentali del nuovo ordine costituzionale in particolare le libertà dei cittadini e le linee essenziali dell'architettura dello Stato ma questa proposta non incontrò il favore delle altre forze politiche nemmeno in un momento successivo quando nel 46 discutendo la seconda costituzione provvisoria il decreto luogotenenziale numero 98 del 46 alla fine si scelse per il referendum istituzionale ma si decise di collocarlo a monte dei lavori dell'assemblea costituente il famoso 2 giugno in cui si decideva monarchia e repubblica e si leggeva contemporaneamente i membri dell'assemblea costituente su questo punto il suo dissenso era radicale anche nei confronti di Sturzo al quale peraltro egli era legato da una storia personale e politica di lunga data nella minuta di una lettera a lui indirizzata Sturzo scriveva in termini netti e lapidari la sua opinione contraria al plebiscito pro monarchia o repubblica categorica anche la posizione di Dossetti il quale si preoccupava che il popolo temendo il salto nel buio della repubblica inevitabilmente propendesse per la monarchia e accusava De Gasperi di aver voluto il referendum proprio per conseguire l'obiettivo dissimulato di mantenere la monarchia queste contrapposizioni interne al suo stesso partito per quanto dolorose immagino sul piano anche personale non incrinavano la sua convinzione egli vedeva nel referendum uno strumento di pacificazione il mezzo per assicurare alla repubblica della quale peraltro prevedeva il successo un consenso più ampio sul punto rispondeva Asturzo per me il referendum ha un grande valore morale perché dà il senso democratico e pacificatore di una suprema decisione popolare e di un consenso esplicito della maggioranza alla nuova forma dello Stato l'intento dunque era soprattutto quello di conferire a una scelta così decisiva e condizionante la solidità scusate era di conferire a una scelta così decisiva e condizionante la solidità che può derivare da una libertà di decisione e da un largo consenso di opinione affinché sin dall'inizio la nuova forma di Stato fosse dotata di una robusta base fondativa il terzo apporto di metodo il favore di De Gasperi per il referendum istituzionale era mosso anche dall'obiettivo di evitare che l'ombra della discussione su un punto così controverso si proiettasse sui lavori dell'Assemblea Costituente avvelenandone il clima in effetti un aspetto non secondario che caratterizzò i lavori dell'Assemblea Costituente e ne garantì il successo fu l'atmosfera di cooperazione fattiva di dialogo aperto di ricerca di soluzioni condivise anche sugli aspetti più spinosi un esempio per tutti fu quello dei difficili rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica risolto con l'approvazione dell'articolo 7 anche con l'inatteso sostegno di Togliatti e del Partito Comunista che semplificò non poco il compito dello stesso De Gasperi a preservare questo clima costruttivo contribuì con effetti per nulla marginali la decisione di delimitare i poteri dell'Assemblea Costituente togliendo dal paniere dei nodi da sciogliere sia come si è detto la questione istituzionale sia l'attività di legislazione ordinaria che avrebbe con ogni probabilità dilatato i tempi di lavoro della Costituente e moltiplicato le occasioni di scontro egli non volle mai caricare l'Assemblea Costituente delle funzioni di legislazione ordinaria che vennero portate in capo all'esecutivo uniche eccezioni erano costituite dalla legislazione elettorale e dalla ratifica dei trattati internazionali e ciò si rivelò provvidenziale giacché permise di mantenere il clima di collaborazione fra tutte le forze politiche all'interno dell'Assemblea Costituente anche nel corso dei mesi più drammatici nel 47 quando il viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti portò a un progressivo inasprimento dei rapporti con i comunisti culminato nel maggio del medesimo anno con la loro esclusione dal governo erano anche i mesi decisivi per la conclusione del trattato di pace e allo stesso tempo per il perfezionamento del testo costituzionale le tensioni di quel momento sono impresse nella memoria di tutti per la forza delle parole con cui prese l'abbrivio il suo famoso discorso a Paligi a Palazzo del Lussemburgo di fronte ai delegati delle potenze vincitrici riascoltiamole ancora una volta prendendo la parola in questo consesso mondiale sento che tutto tranne la vostra personale cortesia è contro di me ho il dovere di parlare come italiano ma sento la responsabilità e il diritto di parlare anche come democratico antifascista a Parigi come già a Londra si trovò in un ambiente di freddezza e di sospetto ma parlò con nobiltà come rappresentante dell'Italia certo ma dell'Italia democratica come uno che per la libertà aveva patito nella sua parola vibrava il sentimento della libertà e della democrazia e colpì l'uditorio a rientro in Italia all'atto della ratifica del trattato di pace De Gasperi fu investito con accuse di debolezza di cupidigia di servilismo secondo la nota espressione di Vittorio Emanuele Orlando ma De Gasperi aveva accettato il trattato pur con le sue dure condizioni come un male inevitabile per riportare l'Italia a pieno titolo e a testa alta nell'arena degli attori internazionali e nell'accettarlo iniziò subito lo sforzo perché fosse revisionato nonostante questo contesto così teso il lavoro dell'Assemblea Costituente proseguì con la partecipazione attiva e costruttiva di tutte le forze politiche fino alla fine anche quelle che si trovavano ormai escluse dal governo e qui mi piace notare che la scelta italiana fu diversa da quella di altri paesi la fuoriuscita di alcune forze politiche dalla compagine governativa attraverso quello che fu definito da Leopoldo Elia la Convenzio ad Excludendum non determinò mai in Italia la loro espulsione dalle istituzioni rappresentative a differenza di quello che accadeva in altre democrazie occidentali a partire dalla Repubblica federale tedesca che adottava misure per proteggere le nascenti democrazie le democrazie protette sospingendo fuori dalla legalità i partiti antisistema questo in Italia non accadde mai questi tre interventi la scelta per la Costituente il referendum istituzionale la distinzione dell'azione di governo da quella propriamente costituzionale permisero di gettare un ponte sull'abisso e di giungere al più grande rivolgimento della storia politica moderna d'Italia nella concordia mentre altrove furono guerra civile terrore e massacri come egli stesso osservò nel suo discorso all'Assemblea Costituente il 25 giugno del 46 c'è da chiedersi da dove De Gasperi attingesse una tale chiarezza di giudizio una tale determinazione una tale tenacia nell'azione una tale creatività nell'individuazione di soluzioni praticabili e condivisibili in un periodo così confuso e convulso eppure così decisivo della storia d'Italia d'Europa lascio a chi meglio di me conosce la sua storia personale individuare le sue risorse più profonde che forse più adeguatamente possono rispondere a questo interrogativo per quanto mi riguarda la preziosa occasione di cui sono veramente grata al Presidente Tognona al Sindaco a tutti gli organizzatori che mi avete offerto di tornare a riflettere sulla sua vita politica e anche personale mi ha portato all'evidenza un dato tanto ovvio quanto significativo ai miei occhi De Gasperi il ricostruttore come è definito in un prezioso libricino pubblicato nel 1955 dai Gino Giordani che lo aveva fatto assumere alla Biblioteca Vaticana negli anni difficili dopo la scarcerazione De Gasperi il ricostruttore era un uomo di confine tutta la sua vita è attraversata da confini di varia natura ne richiamo tre i più evidenti ai miei occhi tra Italia e Austria tra Impero e Repubblica tra Stato e Chiesa tra Italia e Austria dal punto di vista geografico De Gasperi nasce cittadino austriaco vive in Trentino una terra di confine che all'epoca era parte dell'impero austro-ungarico e che proprio nel corso della sua vita divenne italiana studia in Austria e qui inizia le sue attività politiche come studente prima e come deputato del Parlamento austriaco poi dopo il passaggio del Trentino all'Italia nel 19 acquista la cittadinanza italiana ed entra a far parte del Partito Popolare di Sturzo da cui prese avvio il suo impegno politico romano che lo porterà a essere esponente politico di spicco forse l'esponente politico di maggior spicco nella sua epoca tra impero e repubblica dal punto di vista storico la sua vita attraversa varie cesure epocali si forma al tempo dell'impero osburgico assiste al suo crollo attraversa il dramma della prima guerra mondiale è spettatore della crisi del 29 dell'ascesa del fascismo ne denuncia in vano le derive partecipando all'Aventino patisce il carcere resta in secondo piano nell'ombra fino al tramonto del regime sul finire della seconda guerra mondiale si trova pronto ad operare per la ricostruzione d'Italia ed Europa come protagonista politico il suo impegno pubblico accompagna la nascita della Repubblica italiana ai primi passi dell'integrazione europea presiedendo tra l'altro la comunità economica del carbone e dell'acciaio e vedendo fallire per contro il progetto della comunità europea di difesa pochi periodi storici sono stati teatro di continui rivolgimenti e svolte di regime come gli anni in cui visse e operò Alcide De Gasperi tra Stato e Chiesa uomo di profonda fede cattolica De Gasperi si trova ad operare nel contesto politico italiano profondamente segnato da una storia di ostilità e diffidenze tra lo Stato e la Chiesa cause queste di non irrilevanti difficoltà per i cattolici impegnati in politica una storia segnata tra l'altro dal non expedit e poi da complesse relazioni nel periodo fascista durante il quale si addivenne alla firma dei patti lateranensi nel 29 come osserva Scoppola una relativa solitudine fu la condizione obiettiva di un uomo che agiva in costante dialettica con il mondo a cui di cui appariva il rappresentante sul piano politico De Gasperi dunque è forgiato alla complessità del reale al senso del limite e allo stesso tempo all'apertura verso gli ampi orizzonti che ogni frontiera comporta è avvezzo ad agire su crinali esposti a tensioni contrastanti una vita di confine come un oiato aperto a molteplici direzioni di cui forse il suo metodo che rifugia gli estremismi nella perenne ricerca di un equilibrio nella individuazione del baricentro possibile l'idea di confine e della ricerca del centro permette di rendere ragione di alcuni aspetti che come si è visto contraddistinguono il suo contributo alla rinascita della costituzione italiana nell'azione di De Gasperi qui azzardo non so se fosse una lettura che rientrava tra le sue favorite ma a me sembra di vedere in atto l'idea di centro di cui parla Romano Guardini nel 1925 in un breve scritto intitolato l'opposizione polare dove si parla del centro come di un punto di raccordo che non è nulla di fisso che si possa dire qui o lì il centro è un luogo ideale dove gli opposti stanno insieme ed è misura centro e misura il politico trentino manterrà sempre questo atteggiamento che cogliendo l'importanza e l'imprescindibilità degli opposti coglie pure la misura dove la misura è accordo e giusto rapporto la sua linea politica è orientata alla continua ricerca del centro in modo da ricomporre le inevitabili polarità guardando anzitutto ai fatti di qui l'idea di ricostruzione che come si è detto non è restaurazione ma neppure rivoluzione dice De Gasperi il ricostruttore non si indugerà in discussioni ideologiche alla ricerca dello stato ideale né d'altro canto si lascerà turbare dai miti della palingenesi rivoluzionare prosegue richiamando nello stesso brano del testamento una citazione di un politico belga Felix de Merod che dice ironicamente quando ordino un paio di scarpe il calzolaio prende le misure sul mio piede e non su quello ideale di Apollo la ricostruzione che egli propone è dunque un metodo che parte dal dato di realtà confida nella forza dei fatti e segue le tracce presenti nella storia così com'è tra tante spicca una qualità della sua azione politica che mi pare derivi proprio da questa sua caratteristica di uomo di confine sempre chiamato a camminare su un crinale a muovere i suoi passi in ambienti impervi insidiosi e severi la qualità che ha colpito me rileggendo le sue opere è quella di un realismo lungimirante certo si potrebbe obiettare facile obiettare c'è un realismo prigioniero della realtà stessa che si risolve in un immobilismo tanti sono i condizionamenti non si può fare e finisce in una fatalistica conservazione ma non è questo il realismo che caratterizza l'azione oserei dire la vita di De Gasperi la traccia che egli ha lasciato nella storia d'Italia ed Europa è quello di un rinnovamento sempre radicato nell'esistente e con un respiro di lungo periodo la sua è una politica che pone le basi di alcuni orientamenti di fondo alcuni dei quali si realizzano subito e altri maturano nel tempo il suo è un realismo lungimirante perché animato da grandi ideali impregnato di idealità un realismo che lo accomuna ai fondatori dell'unificazione europea come espresso nella famosissima dichiarazione del 1950 di Robert Schumann anche egli significativamente un uomo di confine l'Europa non si farà ad un tratto nascerà da realizzazioni concrete che creino innanzitutto una solidarietà di fatto ideali alti l'unificazione e la pacificazione del continente europeo perseguiti attraverso strumenti possibili graduali condivisi in dimensione umana di cui la loro durata nel tempo a partire da quei primi malfermi tentativi la ceca la fallita comunità di difesa anche oggi l'Unione Europea continua il suo cammino attraverso mille crisi si è detto l'Europa vive di crisi esitazioni fallimenti riprese rilanci mostrando di saper mettere in atto all'occorrenza gesti di solidarietà di fatto che come all'origine sono in grado di muovere un nuovo dinamismo e di ricreare nella società un nuovo slancio di questa conquista oso pensare De Gasperi sarebbe stato fiero ma lasciatemi concludere con una lettera riprodotta in questo prezioso volumetto raccolta dalla figlia Paola scritta dal carcere mentre la sua famiglia si trovava in montagna per il periodo estivo e lui scrive alla moglie cosa si scrivevano anche io sto preparandomi per una scalata di roccia e sai dove sto esercitandomi nelle male bolge dell'inferno dantesco con Virgilio che dirige la scalata senza corda e senza piccozza per il pericolo del fulmine si noti che anche in quel canto di Dante nel ventiquattresimo dell'inferno sono costretti a salire in arrampicata perché era crollato un ponte il guasto ponte di cui si parla al verso 19 ma intanto prosegue la lettera introducendo una splendida citazione dantesca così levando me su per la cima ad un ronchione avvisava un'altra scheggia dicendo sopra quella poi ti aggrappa ma tenta pria se tal che ella ti reggia non era via da vestito di cappa il metodo di De Gasperi ai miei occhi è tutto qui il cammino sicuro del montanaro dal passo fermo che arriva senza dubbio alla vetta uno stile di concretezza di rigore di realismo animato da una grande tensione ideale De Gasperi come ricordava Pietro Scoppola nella prima lezione qualche anno fa non è l'assenza delle avversità a permettere la ricostruzione l'esigenza della ricostruzione nasce dalle avversità ma il saper discernere una strada percorribile che le attraversa e le supera di un superamento che innova di un'innovazione che non rinnega il passato e che non si arresta mai neppure di fronte a un ponte crollato come nelle malebolge dantesche levando me su in verla cima una via percorribile indicata da una guida sicura percorribile per quanto scomoda impervia non era via da vestito di cappa erta esposta disagevole lungo la quale il ruolo di chi conduce sta tutto nell'avvistare passo dopo passo un appiglio avvisava un'altra scheggia per potersi aggrappare e procedere nell'ascesa e come l'alpinista sa bene occorre sempre verificare che l'appiglio sia tal che la tireggia che sia in grado di sostenerti pena la rovina questo splendido passo della commedia che egli regala alla moglie in uno dei momenti più bui della sua esistenza racchiude ai miei occhi tutta la sua personalità e il segreto del suo carisma un uomo con i piedi saldamente ancorati a terra ma con lo sguardo rivolto in alto e lontano grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie presidente una bellissima lezione che fa onore alla sua persona al ruolo che ricopre al paese che tutti noi rappresentiamo e che credo resterà nella memoria di questa tradizione come un momento alto aspro vero riconducibile anche alla sua passione per la montagna e quindi io sono molto e quindi io sono molto lieto di aver osato chiederle di immergersi un po' in De Gasperi ma confidavo e i dubbi sono stati sciolti subito e ancora di più adesso grazie di cuore e grazie a tutti voi la lezione non si commenta si leggerà verrà diffusa e quindi resterà nella memoria di tutti noi grazie ancora signora presidente della corte grazie a tutti grazie a tutti